Figa, qui la sesta ha diruviato, tantissimo diruviato Figa, è tutta allagata qua Figa, è tutta allagata Martedì 27 settembre 2022 Non andavano così tanta pioggia Non andavano proprio pioggia Ho capito che siamo in autunno Non saluto tanta pioggia Qui così è stata la corrente saltata Siamo a Cologno siamo Figa, è una bella potente venuta la pioggia qua Ha fatto saltare tutte le luci La corrente talpugna O sono finito O a sinistra O a destra O su Vediamo Ma qua c'è la luce Qui la non c'è la luce E ricomincia ancora a piovere Qui è alzo l'oro il ruolo gane è arrivato giù ora ci sono un 13 gradi minimo qui c'erano le lavori in corso c'erano le lavori in corso non piove più piove non piove piove non piove che tempo tutto strano ma ancora i lampi chiedono che eravamo dentro il cinema eravamo ci saranno corti dopo mezz'ora che pioveva dopo abbiamo sentito con i tuoni ho detto adesso era il film invece erano i tuoni e la pioggia 44 ore a 10 gradi mi sei che ci sono ma non ci sono le 12 ma non ci sono le 12 dicembre del 2022 vi auguro una buonanotte a tutti quanti andiamo a dormire tutti quanti buonanotte a domani ciao ciao